Il nostro matrimonio fu un errore, sono innamorata di Vittorio e io non fugo con noi questa sera. Addio inizia. Mamma mia, io non ho capito di farlo starete. Non parlo di farlo starete. Non parlo di farlo starete. E' un po' io lo penso. Ma questa è l'è con certa bella e io d'aggiunta da te soffrella. Stato bene, papà. Stato bene, papà. Buonasera. Andiamo lì. Dite, papà, dite. Questa è roba tua. Ah, ah, grazie. Grazie, papà. Buonasera, domani sera. Momente da scuola da voto, prese. Dottor, domani non venite. Ma roba c'è per l'uva. La verità, sono un mirato. Poi se magari cambia qualcosa, vediamo, o meno da giamare, io è buono. Buonasera. 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 Sabato, 27 dicembre 2014, ore 20, presso il Centro Sociale Sindacale. Piano di Montoro, Avellino, presenteremo Natale in Casa Cubietto, di Edoardo De Filippo. Vi aspettiamo! Ma che meraviglioso! Quante tante! Piano di Montoro, Avellino, presenteremo Natale in Casa Cubietto, di Edoardo, 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 di Edoardo. Grazie a tutti.